Salve a tutti e benvenuti ragazzi in questo nuovo video guida su pokémon sole e luna sempre qui sul canale di rocette Allora ragazzi dopo avervi fatto vedere UC01, 02, 03 e 04 Quest'oggi siamo qui ragazzi sull'isola di Pony, l'ultima isola di sole e luna Per appunto farvi vedere come catturare UC05 Allora, sarà abbastanza lungo il percorso ragazzi, infatti è abbastanza la ultracattura più difficile da trovare in assoluto Però ragazzi insieme ce la potremo sicuramente fare Allora quella prima cosa ragazzi dobbiamo andare da bell'occhio che si trova al ristorante Qua su questa specie di barca a forma di... di quale pokémon che non riesco a riconoscere da qui Sembra una specie di Wailord oppure mi sbaglio Comunque ragazzi questa specie di ristorante E troveremo bell'occhio con il signor Augusto, l'agente di polizia e K1 di Ula Ula Molto bene, eccolo qua il buon bell'occhio Il capo ha già cominciato a sorvegliare i dintorni, molto bene E ci dirà appunto che Alberta sta già appunto facendo delle indagini sull'isola di Pony L'hai depissata dandole una destinazione sbagliata, vero? E' necessario, non ce la fa più E ragazzi adesso ci dà delle spiegazioni su quanto ha detto Bellocco nello scorso episodio delle guide In cui appunto ci diceva di quel fatto successo dieci anni prima L'unica scelta era mandarla a seguire una pista falsa Quindi praticamente ragazzi ha mandato Alberta, la sua comandante, la sua superiore A seguire una pista falsa Torniamo al nostro discorso, va bene Dunque l'altra errante, molto bene E' Alberta Quindi ragazzi era Alberta l'errante di cui si parlava nello scorso episodio durante UB04 Molto bene Circa dieci anni fa io e Augusto l'abbiamo trovato su quest'isola Svenuta sulla spiaggia Mi ricorda un po' Bellocchio in orsi insomma Avevamo finito la nostra missione, l'abbiamo aiutata Avevamo perso qualsiasi, avevamo perso completamente la memoria Ricordava solamente quattro cose Di chiamarsi Alberta Di venire da ON Di avere il comito di difendere una certa torre Infatti ragazzi Alberta se non ricordo male Dovebbe essere la boss della torre lotta nel parco lotta di Smeraldo E di essere un'abita allenatrice Dall'ora è stato tenuto sotto osservazione dalla polizia internazionale Hanno rilevato un'incredibile quantità di energia dell'ultra varco Che poi arriva dal suo corpo Un po' come Samina alla fine E' possibile che abbia vagato lungo del barco Comunque dopo qualche tempo è entrata nella polizia internazionale E è stata promossa prima di te che sei in servizio a più tempo Sad Bellocchio proprio Cioè veramente Povero Bellocchio Hai ragione in parte Ma in fin dei conti lei ha scelto liberamente di partecipare alla missione E lui non parla mai niente Lui zero Chissà forse inconsciamente soffre per il destino delle UC Creatura nella sua stessa situazione Invece sull'estino come errante E' di essere presa di mia dalle UC E' come una specie di esca Di fronte ad un errante Le UC entrano in uno stato di eccitazione E si scatenano Ok Per questo non volevo che si occupasse delle UC da sola Quindi io chiedo saluto a te Luke Per la presa di incursore delle UC E hai fatto più che bene Per questo ti stimo Bellocchio Ok ragazzi Quindi la spiegazione importante C'era data Adesso ragazzi Purtroppo Augusto ci si vedeva in una lotta Io come sempre ragazzi La lotta la taglierò Perché non siamo qui per fare una lotta Ma siamo qui per cercare UC 05 Quindi La lotta ragazzi La taglierò E ci vediamo fra pochissimo Ok ragazzi Dopo aver sconfitto Augusto Che aveva poca motivo buio Possiamo continuare la missione E ricerca di UC 05 Purtroppo Non è tutto Infatti avremo un'altra lotta In questa Insomma guida Che io vi taglierò Perché come vi dico Non siamo qui per vedere lotte Ma per vedere una guida Su come Insomma trovare E catturare In seguito UC 05 Ok Agente 0-0-0 Penso sia il nome in coce Della missione ragazzi Questo Appunto L'ultimo obiettivo È UC voracita Sovere UC 0-5 Augusto l'attivato Nel fondo della caverna Climax Un luogo abbastanza Impervio UC 0-5 voracita Agente 0-0-0 Ok ragazzi Ultima missione per l'UC O forse no Ecco a te Come al solito 10 UC ball In maggio Che il blocco ci darà Appunto 10 UC ball Siamo pronti ragazzi Praticamente per andare A fare questa missione Ok Perfettamente Quindi ragazzi Il nostro obiettivo È il fondo Della grotta Di quella specie Di caverna Climax Che è un luogo Abbastanza difficile Da raggiungere Quando risuono i pony E per questo Ci servirà veramente Un bel po' di tempo Neanche così tanto Ma come vi dico ragazzi Per evitare Di fare una Un video guida Di 20 minuti Cosa che Secondo me Non è affatto necessaria La prossima sfida Che faremo adesso Per forza ragazzi Perché è obbligatoria La taglierò Almeno Rendiamo il tutto Un pochino più scorrevole Adesso mi curo E andiamo ragazzi Vi faccio vedere Il percorso Che dovete fare Perché comunque Comunque sia è abbastanza lungo E non è così immediato Questo percorso Da trovare Insomma Secondo me Quindi Adesso Passando Da questa parte Senza Farsi beccare Dagli allenatori Cosa molto importante Ma soprattutto Ragazzi Io Metterei anche Un bel repellente A questo punto Perché non vorrei mai Beccare il selvatici O quelle robe lì Insomma Quante ne ho? Sei E forse è meglio Se me ne comprava ancora Mi dicono Ma vabbè Dai Me li farò bastare Comunque sia Ragazzi Voi combattevi Dei repellenti Perché la strada È abbastanza Insomma Abbastanza lunga Non è affatto corta Ci vuole un pochino Di impegno Per questa strada Quindi occhio Ok Soltiamo tutto E passiamo da questa parte Dove c'erano le rovine Ragazzi di Pony Se non ricordo male Il nome è più o meno Una cosa del genere O no Via antica di Pony Appunto Adesso Ci sarà una sfida da fare Una sfida abbastanza importante Da fare Perché si passa di qua Per forza Eccola qua Appunto ragazzi Loro Che sono appunto Dexio E Sina Se non ricordo male Gli aiutanti di Platan In Pokémon X e Y Così che ci sfideranno Per appunto Mostrarci il potere Della mega evoluzione E in seguito Ci regaliranno Anche un mega cerchio Per fare Un mega volo di Pokémon Ragazzi Quindi Io questa sfida La salterò Perché tanto Non ha senso fare In questo video E ci vediamo Tra pochissimo Ok Appunto ragazzi Abbiamo scopito Dexio Che mi ha scatenato Contro un mega Da Kazam Veramente Una cosa Atroce Mi ha lasciato La squadra Quanto è la potente Ragazzi è veloce Con il mega Alakazam Eccolo qua Adesso ragazzi Ci darà tipo La pietra chiave Con la La pietra di Alakazam Per fare un mega evolvere Quindi ragazzi La alakazamite E la pietra chiave Quindi due Premi Per una battaglia Eccola qua Alakazamite Molto bene Prima mega pietra Di settima generazione Possiamo dire Molto bene Adesso ragazzi Bon voyage Che ci rimacchiano Che vengono da Kalos Appunto Due giorni Ispirata Dalla Francia Molto bene Adesso ragazzi Mi curo Un attimino Tapu Koko Perché sarà utile Per la squadra Più che altro Quindi Revitalizzante Mi curo anche In Sinerogia Che ci sono Molto bene E possiamo andare avanti Con Revitalizzante Basta avanza Adesso Proseguiamo Con il nostro percorso Dovete passare Da questa parte Ragazzi Non dall'altra parte Ma da questa Quindi passate di qua Perché dall'altra parte Finite verso L'altare del leggendario Di qua invece finite Proprio nel Nel centro Di quel grande canyon Stavo dicendo Dopo che Dopo che L'allenatore Mi ha interrotto Questo infame Il percorso da fare È questo qua ragazzi Purtroppo io qua Non avevo ancora Insomma Praticamente esplorato niente Per aspettare di fare Il tutorial insieme a voi Qua c'era anche Una cellula di Zaygar Devo fare attenzione A non beccare Gli allenatori Perché sennò Veramente No Per favore Gli allenatori No In questo episodio Ok Comunque ragazzi Passa da questa parte Questo qua mi stava per beccare Io non volevo beccarlo Ok da questa parte C'è una cellula di Zaygar Che andrà a recuperare In seguito Anche qua È veramente pieno Di cellula di Zaygar Si è veramente Di spasso Dappertutto Ok Adesso Il cartello Dovete andare oltre Ragazzi Evitare tutti questi Pokémon qua Anche il selvatico Che c'è lì dentro E passare sotto Questi fiori Praticamente Molto bene Adesso Prato Siamo imparato pony Quindi la via È quella giusta ragazzi Se vedete questo propas E l'allenatore La via è giusta Passate di qua Qua c'è qualcosa Un nettare viola Ok Non si finisce Ma di trovare roba Allora Bene Procediamo qua su In questa via Qua c'è un altro C'è un altro C'è un altro nettare In questa Ovviamente c'è un altro nettare E passiamo di qua ragazzi Sopra Questo specie di Ramo Questo tronco E mettete le repellenti Passate ancora di qua E adesso Tornate dalla parte opposta E ragazzi Siamo quasi veramente In fondo Bene Se vedete questa Caverna qua giù Che scende Siete dalla parte giusta Adesso Doveste vedere delle parti Rocciose Cavalcavi da Malsail Eccole qua appunto Quindi ecco Non posso proseguire Fuori strada Malsail Perfetto Siamo veramente ragazzi Sulla strada giusta Sperando di non trovare Altri allenatori Che qua Mi pare che ce ne fosse uno Quindi devo fare attenzione Quindi scendo Perché se non avete ancora Sfiliato l'allenatore Qua ce n'è uno Eccolo lì appunto Questo qua E' veramente difficile Da evitare Purtroppo Ma io sicuramente L'avevo tagliata La battaglia Quindi ragazzi Non mi sarete accorti Che aveva un emorga In squadra Questa allenatrice qua Cavoli tuoi Adesso Comunque ragazzi Siamo praticamente arrivati Si va qua giù E si scende Si scende Finché non Trovate prima Una cellula di Zygarde Qua Una Una piccola cellula verde E poi siamo arrivati Nella grotta Finale Sedite la host Ci siamo ragazzi Quindi Subito Subito Veramente subito UB05 Non si fa attendere E c'è Un unico esemplare Di questa UB Mamma mia E' gigantesca E si becca L'ultra boost In cosa Questa UB In cosa In attacco Questa è molto Molto pericolosa Molto molto pericolosa Si aumenta l'attacco E ogni volta Diventa sempre più potente Livello 70 E nettamente UB più potente Non mi ricordo Il suo typing Ragazzi Perché non A memoria Non me lo ricordo Vediamo un po' Ecco E' esistente al fuoco Quindi non mi ricordo Che typing potrebbe essere colpo Guardate come ci hara Malissimo Non mi fa fuori Facciamo così ragazzi Io provo a fargli fuoco carica A meno provo a togliere Un po' di Di vita Così dai Per sicurezza A meno magari ci sta subito Con la UC Ball Scotto please Non l'ha scottato Ehm Mi sa che Incinerore ci saluta Purtroppo Vabbè Grande Grande Gattone Incinerore Hai fatto il tuo rovere Comunque Ultra boost Ancora una volta Quindi diventa ancora più Forzuta Ma si confonde Con l'effetto di colpo Comunque ragazzi Questo UB è veramente Molto molto particolare E io penso Metterò Licaroc Visto che Mi potrebbe fare un altro colpo Quindi io Mi metto Mi metto a riparo Da possibili danni Ok Licaroc Mezzanotte E io provo Subito a tirare Ragazzi Una bella UC Ball Proprio dritta Dritta Verso questo Pokémon Che non mi ricordo Come si chiama Però il nome Di questo UB Uno Due Dai Dai ci stai Eh no Questa ragazzi Non è come le altre Questa Attenzione che non è affatto Come le Gastroacido Ok quindi Praticamente Tipo Non c'è più l'abilità Ok appunto L'abilità Perde di efficacia Con gastroacido UC Ball Abbiamo 36 ragazzi Ne abbiamo finché vogliamo Finché ne vogliamo Di queste UC Ball Che non sempre sono efficaci Attenzione Eh già Eh già Eh già Altro che UC01 ragazzi Questo si che è il vero mostro Dell'ultramondo Peso bomba Acciaio Devastante Devastante Tipo Eh si boosta ancora Poi ci credo ragazzi Che mi fa fuori Ok Altro Pokémon Ma certo ovviamente Ma andiamo a Tsarina Che è l'unica Che è un pochino più alta Rispetto agli altri Questa Il livello di questa ultracattura Comunque sia folle Il livello 70 Con l'ultra boost Potentissima Statistiche assurde Ragazzi niente da dire Cioè Una delle ultracatture Più forti fino a questo momento Uno Due Dai che lo catturiamo adesso Tre E ci stai Grande Ok Ti ha fatto paura Tsarina penso Il suo fascino Da Pokémon tipo erba Molto bene Abbiamo catturato anche L'ultimo UC ragazzi O forse Ci sono ancora Qualcos'altro Non si sa Guzzlord Giusto è vero Guzzlord Non me lo ricordavo il suo nome 298 99 Ok Registrato Yes Mammi ragazzi È bello È bello cercare Mi piace un sacco Questa roba del postgame Ah Buio Drago Giusto 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 Di vola tutto È una delle pericose ultracatture Mangia continuamente Ma per qualche sano motivo Non produce scrementi E questa è la sua peculiarità Molto molto creepy Soprannome No grazie Però lo invoglio inviare al pc Thank you very much Ok Quindi adesso ragazzi È l'unica ultracattura da catturare Adesso dobbiamo assolutamente fare rapporto Al caro comandante Bellocchio Quindi Eccomi qua ragazzi Mi sono attività asportato Proprio per magia Qui in un secondo Nel ristorante Qui sul mare E entriamo Vediamo un po' Che ha da dirci Questa volta Bilbon Bellocchio La musica di Bellocchio Veramente stupenda Ok Ho fatto dei progressi Molto bene Adesso ragazzi Però ovviamente Non sarà finita qui Perché non è che una volta catturate le uc Il postgame è finito Ci saranno altre cose da fare Sicuramente Ok Trasmesso a Ciceria Molto bene Quindi ragazzi È finita a capo Sì Tutte le ucce sono andate catturate Ma Aspettate ragazzi Aspettate Anche ragazzi a Bellocchio Grazie a te Bellocchio È stato bello catturare le ucce Posso portarvi a cen Non ha soldi Fammi indovinare Non hai soldi per pagare la cena Bellocchio Pago io Pago io Non preoccuparti Ok Adesso ragazzi Andiamo a Letter Partos Per fare rapporto Con la signorina Ciceria Vuoi raggiungerci? Certo Come no Verrò nel prossimo video tutorial Penso Quindi adesso ragazzi Prendiamo uscire Vedere se succede qualcosa Ma non credo Penso che se ne parlerà poi Per il prossimo episodio E infatti Quindi ragazzi Io mi fermo qui Però Ci sono ancora delle cose da fare Importanti In questo postgame Tutorial Che vi faccio Qui sul canale Ragazzi Io vi credo solamente Una cosa Due cose molto importanti Ovvero Un bel mi piace Per far vedere Al più gente possibile Il video Ragazzi Per fidarlo maggiormente E nella descrizione Se questo video È stato utile Quindi ragazzi Per oggi La rocette È tutto Noi ci vediamo In un prossimo Una prossima guida Tutorial Sempre qui su Sono il luna Quindi un saluto Da rocette Ovviamente Bye bye Ragazzi E E E...